Si è inaugurata oggi a Catania una nuova sede, la delegazione dell'Asso Utenti a fianco degli utenti e dei consumatori. Qual è il vostro messaggio che volete dare? Qual è il vostro servizio? Il servizio è quello di assistere i consumatori, gli utenti di servizi, cercando anche di prevenire le controversie. Il senso di un'associazione ai consumatori non è quello di portare in tribunale le vicende, ma per quanto è possibile risolverle in sede extra giudiziale, possibilmente anche attraverso la conciliazione che è molto favorita anche dal nostro vicepresidente Mario Finzi e da tutta l'Asso Utenti in genere che crede, come tante altre associazioni di consumatori, che la conciliazione sia certamente la via preferibile alla soluzione delle vicende che coinvolgono imprese da un lato e consumatori dall'altro. Quali sono gli interventi che voi pensate che i consumatori hanno più bisogno nel nostro territorio ovviamente? Nel settore dei servizi pubblici certamente, ma appunto non in una logica di contrapposizione con le nostre amministrazioni, ma proprio di dialogo propositivo.